Musica Abbiamo Gabriele Arrigoni dell'Innocenti Depositi, possiamo dirlo con i segni della battaglia perché è pieno di pezzettini di gomma del sintetico, è autore della parata decisiva Sì, come no, hai appena parato il tiro libero, quindi permette ai tuoi compagni di andare ai playoff nel tabellone principale, c'è molta soddisfazione Sì, sì, c'è molta soddisfazione, ho pensato di pararla, quindi va bene Per niente è il numero uno, è il numero uno L'abbiamo detto, adesso obiettivi per la prossima partita? Andiamo avanti e vediamo dove arriviamo Benissimo Siamo come il Milan Bene E' andato